Le prenotazioni online ci consegnano quasi un sold out in molte località turistiche della nostra regione. Va benissimo Napoli che potrebbe avere sold out nelle prossime ore con un last minute, last second. C'è il problema dei trasporti, sia pubblici sia delle infrastrutture e delle strade. Va molto bene le prenotazioni sia in Costiera Amalfitana che in penisola solentina che però risentono la loro fragilità. Qui bisogna compre azioni contro l'escursionismo. Ecco perché chiediamo l'intervento di regioni e comuni perché si trovi una sinergia. Occorre applicare quella legge nazionale della ZTL recentemente approvata e compre azioni più strutturali. Mi riferisco anche al decoro, alla sicurezza che riguarda non solo la città di Napoli, autentico snodo intermodale, ma anche altre località. Andrà bene anche Salerno e i timidi segnali per il Cilento e le aree interne.